In una recente intervista, Sara Toscano ha svelato se porterebbe Holden in esterna come a uomini e donne. Ecco cosa ha risposto la vincitrice di Amici 23. Nel corso di un'intervista a Seiwad con il conduttore Michele Wad Caporosso su Radio DJ, Sara Toscano è stata di nuovo stuzzicata in merito alla sua amicizia con Holden. Il cantante è stato ospite nella puntata precedente del format e ha lanciato alla vincitrice del talent di Amici, di Maria De Filippi, una sfida. Dire, sinceramente, chi era il cantante di Amici che stimava di più? La cantante di Sexy Magica ha riso divertita quando il conduttore le ha posto la domanda del suo ex compagno di avventura nel talent, ma ha immediatamente ribattuto che la sua risposta non poteva che essere Holden. Tuttavia, ci ha tenuto a specificare Sara, al di là dello schermo, per il cantante di Randagi provava davvero molta stima e ammirazione, soprattutto perché Holden produce da solo i suoi singoli. Ah, c'era Holden ieri? Allora ti dico lui. Però, a parte gli scherzi, ti direi veramente lui, perché scrive tutto quello che fa, si produce anche da solo, quindi tanto di cappello. Poi, il conduttore l'ha ulteriormente stuzzicata, invitandola a giocare a una versione radiofonica di Uomini e Donne. Wad le avrebbe dato degli indizi su alcuni cantanti, e lei avrebbe dovuto indovinare di chi si trattava, e se avesse mai deciso di portarli in esterna. I primi candidati erano Fedez e Olivia Rodrigo, e Sara ha ammesso che nel caso della seconda sarebbe felice di uscire con lei, visto che è un'artista che le piace. Mentre verso il rapper si è mantenuta neutrale, ricordando che è nel pieno di un divorzio, e non le sembrava il caso, anche se si trattava solo di uno scherzo. Poi, Wad ha dato alcuni indizi sul terzo eventuale candidato, affermando che era un cantante di Amici 23, e il cui nome iniziava per Jay. Immediatamente Sara ha riso, e ha indovinato subito che si trattava di Holden, e, senza indugiare, ha affermato che non le dispiacerebbe un'uscita con il cantante. La sua risposta, ovviamente, non ha fatto altro che accrescere i vari rumors sul presunto flirt tra i due ragazzi, nonostante entrambi abbiano più volte negato che tra loro ci sia qualcosa in più, oltre alla stima. Eppure, i fan non riescono a non emozionarsi di fronte alla loro complicità, e alle belle parole che si rivolgono l'un l'altra. Holden, ha persino deciso di dedicare il suo EP alla vincitrice del talent di Canale 5, oltre a chiederle di collaborare con lui per Ossidiana. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati con le ultime novità su Flash Trend Ita.